... Ben ritrovati a tutti voi telespettatori di CatalanTV, apriamo il Tg parlando della situazione Covid, di modo particolare ad Alghero, perché ieri è stato registrato un caso di positività in una classe della scuola secondaria di primo grado di Via Biasi. Immediatamente la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo numero 3 ha attivato il protocollo da seguire in questi frangenti, mettendo in isolamento fiduciario l'intera classe. Lezioni regolari per gli altri studenti della scuola, anche se per la giornata di oggi sono stati rimodulati gli orari di ingresso e uscita, e lo stesso potrebbe avvenire per i prossimi giorni. Intanto ieri in Sardegna si sono registrati 159 nuovi casi, 116 rilevati attraverso attività di screening e 43 da sospetto diagnostico. Non si sono registrate invece nuove vittime, 2306 sono i test eseguiti. Crescono i ricoveri reparti non intensivi, ora sono 210, mentre sono 33 le persone ricoverate in terapia intensiva, 3.259 invece le persone in isolamento domiciliare. Crescono fortunatamente anche i pazienti guariti, ieri più 45 rispetto al dato del giorno precedente. La cronaca ora perché ieri era attesa la sentenza della Corte d'Appello nei confronti di Marcello Tilloca, il 44enne reo confesso dell'omicidio dell'ex moglie Michela Fiori, sentenza che invece arriverà il 5 novembre prossimo. Ieri in aula il legale dell'uomo Maurizio Serra ha chiesto ancora una perizia psichiatrica perché a suo dire l'imputato può essere affetto da gravi disturbi della personalità e ha chiesto l'esclusione dell'aggravante della premeditazione. Gli avvocati di parte civile Lisa Udassi, Marco Manca e Daniela Pina Vistoso che rappresentano rispettivamente la madre, il fratello e la nonna della vittima a conclusione delle rispettive discussioni hanno chiesto la conferma della condanna di primo grado, quindi 30 anni. Non resta ora che aspettare la sentenza della Corte in programma, come detto, il prossimo 5 di novembre. Malghiero è stata scossa di recente anche dalla morte di un'altra donna, ovvero Speranza Ponti, per la quale è accusato Massimiliano Farci, 53enne di assemini. Secondo quanto riportato dalla Nuova Sardegna, si sono concluse nei giorni scorsi le indagini della Procura di Sassari e presto potrebbe esserci il processo nei confronti dell'uomo accusato di omicidio volontario, occultamento di cadavere e furto e utilizzo in debito del Bancomat della donna. In particolare la Procura potrebbe chiedere il giudizio immediato, saltando così l'udienza preliminare. Un ispettore di Polizia Penitenziaria aggredito, carenza di organico, protocolli anti-Covid, percezione e valore del lavoro del poliziotto penitenziario, sono questi i temi discussi ieri durante l'incontro tra il presidente del Consiglio regionale Michele Paes, il direttore della casa circondariale Giuseppe Tomasiello, della casa di reclusione, scusate, Giuseppe Tomasiello Elisa Milanesi e il comandante dirigente di Polizia Penitenziaria Antonello Brancati. Ho voluto portare la solidarietà mia personale e di tutto il Consiglio regionale all'ispettore capovittima dell'aggressione, ha detto Michele Paes. Abbiamo anche parlato della figura dell'agente di Polizia Penitenziaria, un lavoro delicato e rischioso, svolto quotidianamente con grande professionalità, di cui molto spesso manca la percezione da parte della collettività, perché svolto all'interno delle mura. In questo momento di emergenza sanitaria la grave carenza di organico è diventata un problema ancora più attuale per la difficoltà di applicare quei protocolli sanitari che consentano di tenere il virus fuori dalla casa circondariale, ha proseguito il Presidente del Consiglio regionale. Attualmente sono in forze al carcere di Alghero solo 65 agenti. A fronte di 110 carcerati ne servirebbero altri 30 per coprire le turnazioni. Le istituzioni regionali sono al fianco di questi lavoratori che chiedono soltanto di operare in condizioni di sicurezza, ha concluso il Presidente Paes. Ci ricolleghiamo in parte alla situazione Covid per parlare del Centro Residenziale Anziani, perché ovviamente è da monitorare attentamente la situazione nell'ex ostello. L'ex considera Comunale Franca Carta, ora coordinatrice di Peralguero, però punta i riflettori sulla situazione nella struttura che, ricordiamo, venne scelta dalla precedente amministrazione e attacca la Giunta Conoci invece per le promesse elettorali e per lo stallo sul nuovo Cran. A tutt'oggi non è accaduto nulla di nuovo da quel settembre 2018. Dunque, quella scelta definita inadeguata, per molti scellerata, a quanto pare, era semplicemente l'unica possibile. In quel momento di emergenza lo dimostra il fatto che i nostri nonni si trovano ancora all'ostello, ubicato a Fertiglia, e vivranno lì il loro secondo inverno, da che si è insediata la Giunta di Centrodestra, tra leghista e sardista. Lo sostiene in una nota Franca Carta, ex consigliera comunale, ora coordinatrice di Peralguero, che lancia vere e proprie bordate nei confronti del centro-destra, in particolare dell'attuale Giunta Comunale. Non sono mai stati effettuati quegli interventi di riqualificazione previsti dall'allora amministrazione Bruno per ammodernare e migliorare una struttura, l'ostello, che da subito mostrò dei limiti, ma che si rivelò l'unica possibile nell'emergenza di dover offrire accoglienza agli anziani dopo il crollo di una porzione di tetto nella casa di riposo al Viale della Resistenza, ricorda, ringraziando poi gli operatori, che con professionalità, grande senso di responsabilità e abnegazione cercano tra tante difficoltà di rendere migliore la qualità di vita degli ospiti. E ancora vivo in me il ricordo delle passerelle di alcuni candidati del centro-destra, un eccellente, oggi Presidente del Consiglio regionale, con al seguito giornalista, reporter e persino Ministro della Repubblica, reperito alla specialata, a voler dimostrare ancora una volta quanto i nostri anziani siano una risorsa inestimabile, magari solo per trovare qualche consenso elettorale in più. Di questi tempi, per ridare credibilità all'agire politico, sarebbe opportuno per chi governa, amministra la cosa pubblica, fare scelte di buonsenso e la soluzione di costruire un nuovo CR in città, per il mio, risponde ancora a questa esigenza. Invece, attacca l'esponente di centro-sinistra, dopo due anni, l'amministrazione Conoce ancora ferma la progettazione, coi 7,9 milioni di euro reperiti dall'amministrazione Bruno per l'edificazione di una moderna casa di riposo al semplice recupero dell'ex CRA diventato nel tempo un edificio vetusto, superato e non più rispondente alle norme stringenti in materia di accoglienza anziani, oltre che cercare in vano un luogo alternativo per ospitarli. Nel frattempo, se qualcuno risponderà al bando, si pensa ad un futuro trasloco degli anziani, magari in un albergo, nella provvisorietà più totale, in una città che invecchia diventa invece opportuno e doveroso, secondo la carta, costruire una nuova casa di riposo moderna e funzionale su un terreno comunale pianeggiante, senza scale e libera da barriere architettoniche. Ci fermiamo, ora c'è la pubblicità, tra poco. Ed ora una notizia che riguarda i servizi sociali, una comunicazione per con precisione. I cittadini in possesso dei requisiti sanitari possono presentare istanza per il riconoscimento dei benefici per particolari patologie e per l'anno 2020, entro il 15 novembre. La dichiarazione sostitutiva deve essere compilata e consegnata ai servizi sociali ogni volta che intervengano variazioni nella composizione del nucleo familiare o nei redditi di diversi componenti e deve essere compilata e presentata anche per coloro che risultano essere già beneficiari delle provvidenze per la prosecuzione dell'erogazione del sussidio, rinnovo, pena la sospensione delle erogazioni. Comunque, tutte le informazioni sono reperibili sul sito istituzionale del Comune. Alghero al centro del Mediterraneo l'opportunità della macro-regione con Baleari e Corsica per lo sviluppo in ambito dell'Unione Europea. La mozione venerdì in Consiglio Comunale a fine ottobre con Oci, con i sindaci di Palma di Mallorca e Bonifacio. La prospettiva della macro-regione del Mediterraneo occidentale con le Baleari, la Corsica e la Sardegna è un percorso istituzionale di forte attualità e può essere reso possibile grazie alla strategia dell'Unione Europea che sostiene i percorsi delle macro-regioni e grazie al lavoro della Commissione Speciale per l'Insularità del Consiglio Regionale della Sardegna opportunamente sensibilizzata su questo tema. Lo ha detto il sindaco Mario Conoci a commento dell'importante iniziativa che vede la città di Alghero guidare la proposta dell'istituzione della macro-regione del Mediterraneo occidentale. Alghero si candida a sostenere il nucleo istitutivo della macro-regione promuovendo la costituzione dell'EGECT ovvero Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale ente dotato di personalità giuridica volto a promuovere e sostenere su scala mediterranea la programmazione locale dello sviluppo. Lo farà con le regioni insulari già sottoscrittrici nel 1995 dell'accordo IMEDOC isole del Mediterraneo occidentale in rappresentanza dei tre paesi della UE che si affacciano sul Mediterraneo occidentale ovvero Francia Spagna e naturalmente Italia per aprirsi quindi ai tre paesi corrispondenti della sponda sud Tunisia Algeria e Marocco. Venerdì scorso il Consiglio Comunale ha deliberato a favore della mozione presentata dai capi gruppo della maggioranza che impegna il sindaco Conoce a porre in essere tutti gli atti necessari nelle sedi competenti per sostenere la proposta di attivazione della macroregione del Mediterraneo occidentale e di costituzione del GECT per la promozione e sostegno in essa della programmazione locale dello sviluppo. In programma già su questo tema un seminario di preparazione alla costituzione della macroregione. Le date sono quelle del 29 e 30 ottobre con l'organizzazione dell'ISPROM con la presenza di esperti e docenti delle università delle isole Baleari e della Corsica con la regione Sardegna con il coordinamento del vice direttore dell'ISPROM il professor Vanni Lobrano il sindaco di Alghero Mario Conoci approfondirà invece il tema con il sindaco di Palma de Mallorca José Giliavargas e il sindaco di Bonifacio Jean Charles Ursucci Alghero si candida quindi a promuovere un futuro di cooperazione nel Mediterraneo dando sostanza al riconoscimento nella costituzione della nostra insularità e aprendo così una nuova stagione dell'autonomia per la Sardegna la macroregione è un istituto che promuove la cooperazione interna della UE ma anche quella trasfrontaliera sino a oggi ne sono state costituite quattro Danubio Alpi Adriatico Ionia e Baltico e manca proprio la macroregione del Mediterraneo occidentale fondata su Sardegna Corsica e Baleari ieri mattina negli spazi di promocamera sono cominciate per 170 matricole le lezioni del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università di Sassari la sede non è quella universitaria abituale poiché a causa del distanziamento personale obbligatorio dovuto al covid era necessario garantire spazi più ampi agevoli da sanificare e quindi sicuri concetti spiegati molto bene agli studenti e alle studentesse protagonisti della sanità del domani dal presidente della struttura di raccordo della facoltà di medicina il professor Andrea Montella dal direttore del dipartimento di scienze mediche chirurgiche sperimentali il professor Alberto Porcu e dal presidente del corso di laurea in medicina e chirurgia il professor Paolo Castiglia presente anche la vicepresidente della camera di commercio di Sassari Maria Amelia Lai e il direttore tecnico di promocamera Luigi Chessa nel pomeriggio a partire da oggi si svolgeranno negli stessi spazi le lezioni delle professioni sanitarie a cui partecipano 240 matricole come da indicazioni ministeriali l'Università di Sassari per le lezioni in presenza dà la priorità alle matricole cioè a coloro che per la prima volta entrano nel sistema universitario e alle attività da laboratorio che si svolgono necessariamente in presenza a piccoli gruppi previa effettuazione del tampone il modello misto didattica a distanza in presenza è dotato in tutto l'Ateneo secondo disposizioni ministeriali che poi vengono gestite da ogni dipartimento è un bel esempio di collaborazione fra le istituzioni in un momento di difficoltà dal quale usciremo adottando tutti i comportamenti responsabili è dichiarato Andrea Montella promocamera l'azienda speciale della camera di commercio di Sassari con i suoi spazi estate continua ad essere al fianco non solo delle imprese ma di tutti gli enti istituzioni e associazioni del territorio la biennale del teatro di produzione in Sardegna tra le nuove proposte guarda al futuro anche con la lingua algherese la vetrina più importante sullo stato dell'arte del teatro nell'isola promossa e organizzata da Sardegna Teatro ha dedicato una sezione ai cantieri aperti in vista di una ripartenza progettuale venerdì scorso al teatro Massimo di Cagliari nel corso del focus le produzioni sarde in cantiere riservato ai giovani artisti alla presentazione delle idee per le rappresentazioni future la regista algherese Chiara Murru ha parlato del progetto teatrale L'Ura e Ibo di Pino Piras l'opera è stata programmata nel 2019 rinviata a causa del Covid in collaborazione tra lo Spazio T e l'associazione culturale Cabirol che promuove le opere teatrali dell'autore algherese scomparso nell'89 la biennale del teatro di produzione in Sardegna è stata un'occasione per illustrare per la prima volta un'opera in lingua catalana di Alghero in un osservatorio speciale sul teatro in Sardegna al quale hanno partecipato istituzioni operatori giornalisti e studiosi guidati dal critico Walter Porcedda il teatro era consapevolmente strumento privilegiato di denunce occasione di crescita per il popolo classe sociale alla quale apparteneva Pino Piras con orgoglio e dignità il progetto di Chiaramuru Spazio T in collaborazione come detto con Giovanni Chessa dell'associazione Cabirol gode del patrocino dell'assessorato alla cultura del comune di Alghero e si prefigge di elevare il teatro di Piras e la sua stessa arte ad una platea più ampia e non solo parlante la lingua algherese la biennale del teatro in Sardegna è sicuramente un'occasione di svolta per la produzione tutta algherese in un contesto che mette a sistema le competenze ed è in grado di monitorare i talenti e riflettere sulle opportunità prossime ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale io vi lascio al meteo per domani grazie per averci seguito arrivederci